Grazie, Presidente. Sorvolo sul merito del mille proroghe, perché direi che già il nome dice tutto su questa tremenda usanza che il Governo Renzi ha ereditato dai governi precedenti. Mi soffermerai invece più volentieri sul metodo utilizzato per arrivare all'approvazione di questo ennesimo provvedimento. Ringrazio anche la foltissima delegazione del Governo che assiste a queste dichiarazioni di voto, perché sarà utilissimo per loro comprendere perché l'opposizione sia sempre così tanto acerba nei loro confronti. Quasi un anno fa è iniziata questa splendida avventura del Governo Renzi, che però in realtà ha replicato sostanzialmente quanto capitato col precedente Governo Letta, un Governo trasversale, che potremmo chiamare quasi Arlecchino, andava dal centro-destra al centro-sinistra, in barra in barra, tutte le scelte fatte dagli elettori, ma tanto chi se ne importa, non hanno preferenze, non hanno diritto di fare nulla, quindi problema non ce n'è. Qualcuno parlava di bipolarismo, invece in realtà si trattava semplicemente di monopolarismo centrale, potremmo dire, sostanzialmente un partito che piglia tutto. Piglia tutto, sia chiaro, non si intende assolutamente fare manbassa manbassa di seggi elettorali, anche perché questo Governo manco ci è passato per le elezioni, si parla più che altro di fare una manbassa di deputati e senatori. Si è arrivati infatti ad averne 309 qui alla Camera e 113 senatori. Ma torniamo a quanto stavo dicendo. Circa un anno fa arriva il Governo Renzi, un Governo che inizia a crescere nei consensi di deputati e senatori, ma soprattutto in fiducia posta. Questo doveva essere il Governo del cambiamento, si fa tutto nuovo, un altro modo di fare, un'altra dinamica. Eppure questa è qui alla Camera la tredicesima fiducia posta dal Governo Renzi in 12 mesi, 33 in complessivo se si conta anche il passaggio dall'altra Camera. Significa più di una fiducia al mese posta da questo Governo, quindi una forzatura, un'ingerenza nei confronti del Parlamento, perché questo Governo di fatto costringe costantemente il Parlamento e la Camera a chiudere le discussioni, a bloccare gli esami e a sottomettersi all'arroganza di questo esecutivo. Per chi non se lo ricordasse all'interno di quest'Aula, richiamo la memoria dei decreti su cui finora è stata posta la fiducia. Decreto proroga missioni, rilancio occupazione, disciplina degli stupefacenti, lavoro, emergenza abitativa, competitività e giustizia sociale, semplificazione e trasparenza dell'APA, competitività, il decreto Stadi, lo sblocca Italia, giustizia civile, stabilità 2015 e mille proroghe. Sicuramente tornano a tutti i conti, Presidente, tornano perché questa maggioranza è quella che di fatto ha sostenuto queste costanti forzature e questo blocco dei lavori parlamentari, una connivenza sostanzialmente con le modalità di azione di questo Governo. Quello che suona nuovo nemmeno tanto per chi siede all'interno di questa istituzione o quanto per chi sta fuori è l'atteggiamento dei cosiddetti renziani. Loro meritano una nota dal mio punto di vista, perché li sento spesso parlare di compromesso, di accordo, di senso di responsabilità, di impegno, di onorabilità delle istituzioni, ci si riempie la bocca di queste parole, ma di fatto non viene fatto nulla perché il senso di queste parole venga rispettato. Sono così parole sparate, parole, parole, parole. Una settimana fa, per evitare che ci fosse un muro contro muro e di evitare anche l'imbarazzo a questo Governo e alla maggioranza di stravolgere la Carta Costituzionale in assoluta e desolante solitudine, abbiamo provato, in realtà, come facciamo sempre, abbiamo riprovato a discutere col Partito Democratico nel merito. Gli abbiamo fatto delle proposte, abbiamo dato una possibile soluzione, quindi concretezza, soluzione, apertura, responsabilità, accordo, compromesso impegno. La risposta alla proposta di sette modifiche emendative, che poi erano diventate tre, poi una modificabile, poi zero e quindi si è ovviamente arrivati al muro contro muro, la risposta è stata per l'appunto una seduta a fiume, Presidente, una fiume che è stata strappata in maniera rituale, fuori dal regolamento di questa Camera, quello dietro cui tutti vi coprite, con una Presidenza che di fatto, da questo punto di vista, è stata complice in barba a qualsiasi garanzie, non solo di queste opposizioni, ma di tutte le opposizioni. E ieri la storia si è ripetuta, si è ripetuta sul Decreto Mille Proroghe. Seppur la scorsa settimana avessimo proposto di evitare in altra maniera questo muro contro muro, prima di arrivare alla fase emendativa, interrompiamo le riforme, affrontiamo il Decreto Mille Proroghe, che va in scadenza, a differenza delle riforme costituzionali, approviamo questo decreto, discutiamolo, poi riprenderemo con una calma differente le riforme costituzionali. C'è stato dato un secco no. Ora, non vorrei tediarvi col riassunto puntuale di quanto è accaduto da ieri, ma invece lo farò come, perché anche ieri siamo stati propositivi, esattamente come la scorsa settimana, e abbiamo proposto alla maggioranza cinque proposte emendative. Orrore. Il ripristino delle risorse per la terra dei fuochi, il rinvio dell'aumento dell'IVA sui pellet, una richiesta letteralmente inaccettabile, il rinvio dell'aumento dell'eliquido sulle transazioni per le ristrutturazioni, la compensazione delle cartelle esattoriali, e un'altra roba che riguarda i partiti, che riguardava lo stralcio di una deroga, per permettere a voi di scrivervi in un registro che vi permettesse di accedere ai finanziamenti pubblici indiretti. Su quest'ultimo, ovviamente, la risposta non è neanche stata data, c'è stato un sollevamento di sopracciglia che faceva intendere più di ogni altra parola. Per il resto, Presidente, non c'erano soldi, non c'erano coperture, impossibile, seppur l'inverno volgesse al termine, stia volgendo al termine, non ci sono i soldi per coprire l'emendamento sui pellet. E quindi ora ci troviamo qui. Io sono sicura che il collega Rosato, chiunque dopo di lui interverrà, dopo di me, scusate, interverrà in merito, racconterà questo dialogo in maniera completamente diversa e dirà che il PD in realtà si è comportato in maniera estremamente responsabile, ha tentato di onorare le istituzioni, ma da parte nostra c'è stato sempre un secco brutto e cattivo, no. In realtà, in breve, prenderò in prestito, diciamo, non è neanche una barzelletta, è purtroppo un drammatico racconto fattomi da un mio collega, su come funzionano i dialoghi da parte nostra col PD. Ve li cite però brevemente. Noi, per evitare l'ostruzionismo, vi proponiamo cinque emendamenti. E il PD ci risponde, sì, ho capito, ma quando è che dobbiamo andare a casa? E noi gli rispondiamo, sì, ma ce li votate sì o no? E no, se non chiudiamo subito, assolutamente no. Di nuovo noi, sì, ma ascolta, ma sono proposte serie, nel merito, affrontiamo il merito e il PD. Ho ascoltato, ma ora dobbiamo chiudere. Vabbè, semmai facciamo che ve ne approviamo solo la metà, o anzi, facciamo solo metà di uno e noi torniamo dicendo no, beh, almeno tre da cinque ci pare una proposta sensata. E vabbè, questa è la risposta dell'altra parte. E vabbè, no, però alzate costantemente il tono dello scontro. I miei colleghi ridono, Presidente, ma è la drammatica realtà. Sempre il PD. Le cose non stanno proprio così. Noi ve ne possiamo approvare uno, però c'è Boschi che propone una riformulazione. E noi, ma mi sembra che non vi stiate comportando proprio bene così. Cosa viene raccontato ai giornali? Lo dico soprattutto a chi è in tribuna, perché tanto voi già lo sapete. Il Movimento 5 Stelle blocca i lavori. Non è responsabile, non vuole dialogare, vuole fermare il Paese, ma noi andremo avanti. Hashtag la volta buona. Quindi la fiducia ve la voterete voi. La ringrazio.